Manuel, ti aiuterebbe a mangiare con qualcuno? Mia madre mi diceva sempre di sorridere e mangiare le polpette. Mi diceva che ho uno scopo, mangiare all'infinito tutto il mondo. Riguarda solo me, lo stanno tutti impazzendo. Mangiare carne è la catena alimentare, ma almeno il tonno lo mangi? Non sai cosa ti perdi. Ai bambini che muoiono di fame non ci pensi? Come fai con le proteine? E la B12? La mucca, se non la mungi, esplode. Anche le piante soffrono. Sei carnivoro perché hai i canini. La soppressata si è persa. Che vigliacco può fare questo a sangue freddo? Uno che si nasconde dietro a una moda. Ho sempre pensato alla mia vita da carnivoro. Adesso ho scoperto che sono un vegano. A ciò che si non ci si fa. Grazie a tutti.